Maledetto Luna Park, Loredana Bertè qui su RTL cento due e cinque, è giovedì, è il giorno di X Factor, questa sera on visit, si formano le squadre e saranno dodici, in realtà sono di più, mi hanno appena detto Benji e Fede che sono ventuno le persone coinvolte, però insomma dodici soggetti che partiranno con i live. A proposito di partenze e di novità, proprio Benji e Fede sono una delle novità di quest'anno di X Factor. Buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Ciao. Cosa fate? Cosa facciamo? Ci svegliamo tutte le mattine alle sei per queste riprese di X Factor, però ci divertiamo. Siamo intrusi, siamo intrusi all'interno del loft, all'interno della vita di X Factor quest'anno ed è anche per noi un buttarsi, abbiamo deciso di intraprendere questa strada per stimolarci e per essere ancora di più in contatto con la musica. Allora voi siete giovanissimi e incontrate aspiranti artisti, giovani come voi, anche più giovani. Com'è fare da babbi? Da zii? Da assistenti? Come vi definite? Io direi da fratelli, perché comunque ci conosciamo ancora poco perché abbiamo iniziato da poco, però il rapporto è già molto sincero, cioè ci parliamo tranquillamente, un po' di tutto, poi insomma ci chiedono consigli, ma allo stesso tempo casomai si confidiano con noi, ci parlano un po' della loro giornata e ci piace proprio accompagnarli in questo percorso. Allora, iniziamo a dire che domani sera alle diciannove e quindici cominceremo a vedere i frutti del vostro lavoro e poi succederà ogni sera perché in questa settimana i ragazzi già sono entrati nel loft perché si stanno preparando per i live a partire da giovedì prossimo. Avendoli visti pochissimo, vi siete già fatti un'idea di chi è più motivato, di chi è un po' più spaventato, di chi... Ma allora, ci sono quelli un pochino più grandini come Anagrafe che avendo un pochino più di esperienza magari sono un pochino più sicuri di quello che... di dove vogliono arrivare, di quello che vogliono mostrare. Magari quelli un pochino più piccoli stanno un po' combattendo col timore appunto del lasciare casa e dell'ambientarsi con comunque un gruppo di... così nutrito di nuovi coinquilini. Però in generale c'è un bellissimo spirito e si percepisce, stanno trovando anche molto bene insieme, quindi ne vedete veramente delle belle. E questo si percepisce anche durante... nonostante sia una gara anche durante i live, noi abbiamo l'esperienza dell'anno scorso, si vede che si crea un bel team. Vorrei mettervi alla prova un attimo, vorrei un giudizio su questi due giovani ragazzi che stanno per esibirsi. Per me non hanno l'X Factor, no no. Per me ci provano e fanno bene, ma chissà. Aspetta, com'è che era? Allora, così. Prima a destra, poi a sinistra. Dai, ce la facciamo anche noi. Si parte da destra e poi... A destra, sì, e poi... E poi lo integri, no, fai le mosse che vuoi dopo. Perché poi c'è svita la lampada, avvita la lampada. Cioè, dai la cera, togli la cera. Sono un po' tutti questi movimenti. Sono qui con noi Benji e Fede, da domani protagonisti del Daily di X Factor alle 19.40. Su Sky 1 e poi tutti i giorni per raccontare quel che succede durante la settimana. Perché noi vediamo i protagonisti di X Factor il giovedì sera nei live sfidarsi, eccetera. E con il Daily invece abbiamo la possibilità di vedere come si preparano, cosa succede, quali sono le interazioni tra di loro. Anche lì è appena iniziata questa nostra nuova avventura, è difficile capire se ci sono già delle dinamiche tra i ragazzi. In realtà... Sono già delle dinamiche, comunque. Ce ne sono già, ma come è normale che sia. Diteci qualcosa di giudici, dai. I giudici comunque, in verità, non li abbiamo ancora incontrati sul set di X Factor, perché abbiamo appena iniziato la settimana scorsa. Però molti li conosciamo proprio personalmente e ci troviamo bene con loro in generale. Sì, siamo presi bene, come si suol dire. Presi bene, presi bene. Ci piacciono molto, diciamo che abbiamo meno rapporti magari con alcuni e più con altri. E i nomi, i nomi. Beh, ci conosciamo meglio con Fede, penso che... Fede, Smara, forse un po' meglio. Manuel l'abbiamo conosciuto e sappiamo che è la figlia che è nostra fan, quindi la salutiamo, ne approfittiamo. Certo, perché c'è anche questo aspetto che i ragazzi, essendo molto giovani, hanno come seguaci, diciamo così, anche figli di colleghi. Ma anche genitori, più genitori che figli a volte. Diciamo che vi ho visto dal vivo e il vostro pubblico è assolutamente trasversale. Vi volevo chiedere, cosa fate il 16 novembre? Ma il 16 novembre hai qualcosa da fare, Fede? Perché io devo essere libero. Forse è un compleanno, non lo so. Ah, forse c'era un concerto, forse. C'era un concerto. Ah, il concerto. In un posto piccolo a Sago, fuori Milano. Al Forum. Al Forum. Nostro concerto al Forum, è vero. E lo sapete che, lo dico per chi ci ascolta, non sarete soli con gli 11-12 mila amici che vi verranno a trovare. Ah, come? Non sarete soli, perché sarete in diretta su RTL 125 e Radio Visione. Quindi, ricordatevi che canterete per loro, per la gente del Forum, ma anche e soprattutto per il pubblico di RTL 125. Molto bello, molto bello questo. Cioè, vi sto dando una notizia, non lo sapevate, vi ho visto un po' preoccupati. Bellissima questa cosa. L'abbiamo saputo con certezza adesso, quindi siamo molto contenti. Va bene, poi parliamo anche di altre cose che vi riguardano più direttamente al di là di X Factor. Lo faremo tra poco, dopo la pubblicità. State qui con noi. È New York, la nuova canzone di The Journalist, qui su RTL 125. Giovedì è il giorno di X Factor. Questa sera appuntamento con gli Home Visit alle 21.15 su Sky 1. E da domani alle 19.40 il Daily, con una grande novità a condurre. L'appuntamento quotidiano sulla vita dei ragazzi all'interno dei loft, c'è la coppia Benji e Fede. Ci siamo noi. Cari, com'è essere davanti alla telecamera? Perché voi siete abituati a stare sul palco, abituati a cantare, a suonare, e invece fare un po' il conduttore. Ci piace molto ed è una cosa che ci spinge anche a far vedere un lato di noi che magari le persone conoscono solamente in parte, no? Perché noi comunque siamo abituati a fare musica, comunque le persone che ci seguono sono abituate comunque a vedere la nostra vita anche un pelo privata, però lì siamo quasi tutti i giorni, abbiamo un appuntamento quotidiano in cui vedi varie sfaccettature del nostro carattere. Speriamo piaccia. Allora, siete super impegnatissimi perché naturalmente da qui a dicembre vi seguiremo nel Daily Dix Factor, ricordo Sky 1, 19.40, tutti i giorni. Abbiamo detto che il 16 novembre sarete al forum di Assago e in diretta su RTL 125. Poi c'è un altro appuntamento importantissimo, il 25 novembre a Roma, al Paralottomatica, che è un altro super concerto. Insomma è andato molto bene, siamo solo noise, è stato un tour, è un album, ma il 2 di novembre avremo un regalo. Ci sarà la nuova edizione, la limited edition, come la chiamiamo? Extended version. Sì, è una limited edition appunto con cinque brani in più. Ah però! Sì, sono quattro inediti e un brano rifatto con un featuring. Ma quindi tipo qualche altra novità, perché c'è tanta roba. Ma te la dobbiamo dire proprio, siamo in tema di svegli. Allora, prima dell'uscita del R-Pack il 2 novembre usciremo con un singolo che si chiama? Universale, ragazzi. Universale. Universale sarà il nuovo singolo, è una canzone a cui teniamo tanto. E ha un messaggio molto importante per noi. Un messaggio? Universale. Esatto, esatto. S'abbassantino. Ovviamente. Ma questo è settimana prossima? Sì. Può essere settimana prossima, sì. Prima del disc, prima del R-Pack, quindi insomma fai dai calcoli, è intuibile. Inevitabilmente. Sempre a proposito della prossima settimana, tra le tante cose che farete, vi voglio ricordare che ogni giorno alle 15.50 Fabrizio Ferrari e la ZAC, i nostri colleghi del pomeriggio, hanno il compito di chiamarvi e farsi raccontare per quanto possibile in anteprima quello che state combinando dentro all'off con i ragazzi. Quindi, un altro appuntamento importante, ogni giorno su RTL 125 alle 15.50 Benji e Fede ci racconteranno la vita dei ragazzi di X Factor all'interno del loft. Quindi Fede, telefono carico perché quando chiamano bisogna rispondere. Esatto. Di cotte e di crude ve ne raccontiamo ragazzi. Allora, noi vi ringraziamo per esserci venuti a trovare, ci sentiamo a partire da lunedì qui su RTL 125, ci vediamo invece tutte le sere alle 19.40 su Sky 1 a partire domani per il daily di X Factor. Grazie mille. Grazie a Benji e Fede. Ciao, vi aspettiamo, seguiteci. Ciao RTL, ciao. Ciao. Ciao ragazzi, state lì un secondo che presentiamo la prossima canzone di una vostra collega molto amata. Si tratta di Elisa, New Hit, se piovesse il tuo nome. Eccola qui da ascoltare, se non l'avete mai sentita, molto bella. Molto. Eccola qui da ascoltare, se non l'avete mai sentita, molto bella. New Hit, New Hit.